Anche l'Aquila ha risposto alla mobilitazione nazionale lanciata dalla rete scuola in presenza con una manifestazione pacifica di domenica pomeriggio dinanzi all'emiciclo che si è svolta in contemporanea anche a Davizzano e in altre città italiane. Un modo per chiedere la riapertura delle scuole perché, per il comitato spontaneo che si è creato, non ci sono i numeri almeno sul territorio aquilano per giustificare questo provvedimento di chiusura delle scuole che secondo l'ordinanza di Marsilio, salvo altri rinvii, dovrebbero riaprire dopo Pasqua e allora zaini e stucce quaderni dinanzi all'emiciclo con cartelli mai più dad oppure dimenticati a distanza o ancora casa nostra non è una scuola. Io ieri sono andata all'emiciclo e ho partecipato alla manifestazione insieme a tutta la famigliola perché penso che la presenza, la scuola in presenza sia fondamentale. Io ho un bimbo che frequenta la prima elementare e quindi penso che per questo periodo per loro è essenziale andare a scuola sia per socializzare con gli altri amici e sia per l'apprendimento che sicuramente è diverso da quello che hanno in casa. Io ho l'altra bimba che frequenta l'infanzia e infatti lei va, quindi mi chiedo se l'infanzia va e non indossano le mascherine perché le primarie non possono andare quando questi bimbetti sono bravissimi, indossano le mascherine, si igienizzano. Pensi quando escono alle 17 dalla scuola che si fanno la corsetta con gli amici indossano ancora la mascherina. Quindi dobbiamo salvaguardare la salute però dobbiamo salvaguardare anche altri aspetti che sono fondamentali in questo periodo. Il comitato come è noto ha anche presentato il ricorso. L'avvocato Alessia Giovannelli nei giorni scorsi ha ricevuto il rigetto del TAR ma già sta preparando l'appello al Consiglio di Stato che a suo giudizio aveva indicato al TAR la necessità di fare zionizzazioni provinciali e dunque differenziazioni per i territori. Invece il presidente Umberto Rialfonso dà in pratica ragione alla regione motivando con una recrudescenza del virus a livello nazionale.